...esorcisti alla loro attività e continueremo a parlare di culti distruttivi, di movimenti pseudo-religiosi senza però dimenticare neanche il fenomeno dei falsi mistici che ormai da tempo infestano le diocesi italiane offriremo il nostro punto di vista sull'attualità, sulla cronaca per collegarla quando ovviamente è possibile all'intervento del maligno e proprio questa puntata inaugurale di una nuova stagione di Padre Reto vogliamo dedicarla a un personaggio importante, un personaggio fondamentale nella guerra tra il bene e il male la guerra che vogliamo raccontarvi Buongiorno a te, Pagheile, si è madruate, ma che cosa a Belga ha madruate Viva San Michele è un nostro capitano e con la spada in mano che ci riprenderà Bocca, 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 Bocca Bocca, 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 Bocca Bocca, 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 Bocca. Grazie.